E' il giorno della festa patronale della città di Lecce che quest'anno segna la chiusura del giubileo ronziano aperto il 26 agosto di un anno fa per ricordare i 2000 anni della nascita di Santo Ronzo, il primo leccese martirizzato a causa del Vangelo. Ieri pomeriggio nella cattedrale di Lecce Antenasuda ha trasmesso un ulteriore, importante e significativo momento del programma religioso in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi patroni Ronzo Giusto e Fortunato. Durante la messa ufficiata da Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce e concelebrata dall'arcivescovo di Zara Monsignor Zelimir Bulic in questi giorni a Lecce, i sindaci della vicaria di Vernoli, ovvero Vernoli, Melendugno, Borgagni, Rizzanello e Cavallino hanno offerto l'orio che alimenterà per tutto l'anno la lampada votiva dell'altare del Santo. Durante l'omelia Monsignor Seccia ha parlato di carità come segno di solidarietà fraterna e rivolgendosi agli amministratori della cosa pubblica, li ha invitati ad essere sempre più determinanti nel servizio autentico della comunità, servendosi sempre di tutto il bene già fatto e potenziandolo, esorcizzando ogni eventuale male e rivolgendosi ai fedeli, prendendo spunto dalle parole di Gesù nel Vangelo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, ha detto, la fede non è un guardare verso l'altro ma orizzontalmente verso gli altri.